Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Weza Channel, ho appena letto la notizia che adesso è breaking news, quando questo video uscirà sarà molto più dettagliata, ma non è questo il punto, del fermo di polizia a carico, o a danno, non saprei neanche come dire, di Michel Platini in Francia da parte della polizia francese, per pare un'indagine intorno a una presunta corruzione per quanto riguarda l'assegnazione dei mondiali di calcio al Catarna 2022. Michel Platini, come ciascuno di noi, è innocente fino a sentenza contraria, teniamolo ben presente, e tuttavia sentir parlare di corruzione, FIFA e calcio insieme, non so voi, ma a me non mi ha fatto cascare dal pero. E non sono più un appassionato di calcio, lo sono stato fino ai primi anni 2000, ma oramai non lo seguo più da tantissimo tempo a livello di campionato italiano e la nazionale, sì, ma solo quando ci sono le grandi competizioni e poi negli ultimi anni veramente a scendere anche quello. Ma insomma, al di là di questo, da bambino ero invece super super appassionato. Non stupisce nessuno che si parli di corruzione per quanto riguarda la FIFA, l'assegnazione dei mondiali, eccetera, non è la prima volta, sono già state delle indagini molto importanti, e fosse stato legato al campionato italiano avrebbe stupito qualcuno che se fosse parlato di corruzione. Abbiamo avuto dei campionati, degli scudetti revocati, abbiamo avuto dei casi assolutamente clamorosi, di partite comprate, di arbitri comprati, e poi abbiamo avuto scandali finanziari grandissimi. Quando seguivo il calcio io c'era Cechi Gori, c'era la Parmalat, c'era la Cirio, erano delle grandissime potenze, le famose sette sorelle c'erano all'epoca, grandissime potenze calcistiche. Io per primo, da bambino tifavo per il Milan, ero super tifoso del Milan, poi sviluppando nel corso del tempo un certo spirito critico, ho aspettato il 4-0 al Barcellona per cambiare squadra, perché non ero più compatibile con il presidente del Milan, mi sono ritrovato a tifare Parma, ma mica sapevo che cos'era la Parmalat. Ma insomma, al di là di tutto questo, qual è la credibilità del calcio italiano? Una delle domande che mi sono posto, del calcio in generale, italiano in particolare, una delle domande che mi sono posto più spesso in questi anni, avendo come tutti dei conoscenti, conoscendo anche amici che stimo, che seguono il calcio con una passione che a me lascia basito, in questi anni una delle domande che fra me e me mi sono posto più spesso è stata ma come cavolo fa la gente a seguire il calcio? Come si fa? Lo sport in sé non è assolutamente un brutto sport, ora io adesso preferisco il basket, già lo seguivo da bambino ma sono diventato molto appassionato, ma il motivo per cui sono diventato molto appassionato dell'NBA, del campionato americano di basket, e non seguo minimamente il campionato italiano di cui non so niente, il motivo per cui seguo l'NBA è che è un campionato con delle grandissime premesse di equità al suo interno, naturalmente si possono fare delle obiezioni a questo, ma non ha un paragone, credo in nessun altro campionato mondiale di nessun altro sport, nell'NBA può veramente vincere qualunque società con una buona gestione, negli ultimi vent'anni la squadra di una città assolutamente secondaria come San Antonio ha vinto cinque campionati, ha appena vinto Toronto, non è che vince sempre Los Angeles e New York, da quant'è che New York non vince un campionato nel basket americano? Se non c'è buona gestione non succede nulla, non sono solo i soldi, il campionato americano di basket è ricchissimo, molto più dei campionati europei di calcio, ma il budget che le società possono spendere per pagare gli stipendi ai giocatori è lo stesso per tutte, si può sforare, ma sforare costa esponenzialmente, quindi è sostanzialmente molto ben disincentivato, quindi l'NBA per un amante dello sport, che non vuole tifare, ma che vuole vedere una bella competizione, poi appassionandosi ai singoli tecnici, possono essere allenatori, possono essere general manager, possono essere giocatori soprattutto, si può avere più o meno simpatia, ma per uno spettatore secondo me che ha una visione molto più matura, oso dire, dello sport, il campionato di basket americano è veramente una figata, al di là del fatto che è molto bello da vedere giocare. Il calcio in sé, io adesso faccio un po' fatica a seguire una partita di calcio, perché mi risulta troppo lenta, ma in realtà è molto bello il calcio, è ricchissimo per un appassionato, mi ricordo quando ne ero appassionato io, ed era veramente straordinario, ma qualunque sport se approfondito nei suoi dettagli può essere molto appassionante, quindi non è che il calcio è più bello o più brutto di altri sport, semplicemente per come la vedo io, e mi riferisco soprattutto al campionato italiano, ma stiamo parlando di assegnazione dei mondiali, quindi il calcio non è credibile, non è credi il calcio, in generale come funziona, visto che non c'è un NBA del calcio, se non sbaglio in nessun paese, ma potrei sbagliare, il calcio come funziona non è credibile, cosa importante dell'NBA è che non è soltanto un sistema, secondo me molto ben realizzato in modo molto buono, che ha dei valori di sportività importanti, ma è anche il campionato più importante, quindi tu sai anche che lì ci sono tutti i cestisti migliori, come si fa ancora oggi a riversare, come fanno tanti, così tanta passione, aspettative, anticipazione, gioia e dolore, penso soprattutto al dolore, perché comunque più spesso la tua squadra perde che vincere, e anche, scusate, anche nel caso della Juve, lo scudetto è diventato la normalità, per dire quanto poco è competitivo, nel senso di quanto è asimmetrica la competitività del campionato italiano, che è una cosa già di per sé imbarazzante, ma poi lo scudetto diventa la normalità, e quindi l'unica competizione è la Champions, ma al di là di questo, e come si fa a riversare tutta questa passione, tutta questa energia verso un campionato e un sistema, veramente rimaniamo un secondo in Italia, così opaco, il contrario di trasparente, così corrotto storicamente, e non voglio sapere le cose di cui abbiamo avuto soltanto sentore, ma che non siamo riusciti davvero ad avere indagate e sentenziate come si deve, come si fa a credere in quel campionato lì? Come si fa a credere nel nostro campionato di calcio? Maschile, ora stiamo vedendo un grandissimo trionfo, per il calcio femminile, chissà che non sia una speranza per qualcosa di un po' più pulito, ma al di là di questo, è ovviamente un bellissimo messaggio per quanto riguarda le pari opportunità, ma al di là di questo, l'unico argomento che rimane, tirato sempre fuori da coloro che pur consci, della totale mancanza di credibilità di un campionato come il nostro in generale del mondo del calcio, l'unico argomento che rimane è l'argomento tradizionalista, e io ho l'appartenenza legata alla tradizione, io ho un problema gigantesco, sia con il concetto di appartenenza che è il contrario dell'onestà intellettuale, per cui tu devi sempre valutare di volta in volta, penso alla politica, chi ha ragione e chi ha torto, e non devi appartenere a prescindere, si fa poi fatica a declinarlo nel calcio, pensate paradosso, uno arriva da Marte, un alieno arriva e deve decidere perché squadra italiana tifare, qual è un argomento per dirgli la squadra X è meglio della squadra Y? Perché tifare l'Inter e non il Milan? A caso, può solo essere una questione che quindi, non può essere un'appartenenza ben motivata, l'appartenenza secondo me è far finire il desiderio di trovare buone motivazioni e iniziare a delegare il giudizio, ma in altri ambiti nel calcio, chiaramente il gagliardetto calcistico rispetto al gagliardetto politico, ora si usa la stessa retorica nei due mondi purtroppo, però è ancora più vuoto di valori in sé, sì se ne può riconoscere qualcuno, ma insomma è una cosa molto vaga, a quel punto c'è il discorso della tradizione campanilistica, o anche familiare, andavo sempre allo stadio con mio padre o con mia madre, sì lo posso capire, naturalmente sono cose affettive, ma che crescendo e avendo una presa critica, anche sui propri investimenti emotivi, anche di denaro e di tempo, tempo-denaro, quest'unità di misura che potremmo creare, quando c'è lo spazio-tempo potremmo immaginare il denaro-tempo, a un certo punto, sì belli ricordi, dolcissimi ricordi, e terrò sempre il gagliardetto di quella volta lì, però capite che per quale motivo uno dovrebbe investire così tanta passione verso qualcosa di così corrotto e opaco, è questo che mi colpisce da matti, a parte il fatto che, ripeto, se io seguo un campionato con un altissimo tasso di equità, che non è mai perfetto naturalmente, come quello americano di basket, comunque io cerco di non essere un appartenente, anche se ovviamente sviluppi simpatie di volta in volta, come si fa? e quindi si apre il discorso della tradizione, la tradizione non è giusta e buona a prescindere, non ho nulla contro le tradizioni, nel senso di quella cosa che fa parte della tua identità di partenza, e tutti ne abbiamo una naturalmente, ma poi la si critica, poi crescendo la si mette tra parentesi, la si ridiscute, in ogni caso anche se la si tiene per sé, e sarà in un modo diverso, ma la tradizione come qualcosa di buono a prescindere, di vero a prescindere, di valido a prescindere, è un concetto veramente molto pericoloso, la tradizione è semplicemente qualcosa che si perpetra, ma non è detto che si perpetri per delle buone ragioni, e non è detto che ci siano delle buone ragioni per cui noi dovremmo aderirle, magari troveremo qualcosa di tradizionale, che per vari motivi è straordinariamente valido, e allora diremo sì, bella lì, ma non perché è tradizionale, ma perché è valido, che cavolo ne so, a Bologna c'è la tradizione del ragù, però non è che lo apprezzo perché è tradizionale, lo apprezzo perché mi piace, poi i gusti sono fatti anche da abitudine, ma avete capito cosa voglio dire? Ogni tradizione va ridiscussa, crescendoci dobbiamo riappropriare delle nostre tradizioni, cioè le dobbiamo ridiscutere, e decidere quanto più o meno esse continueranno ad essere parte di noi, questo non significa sputare sui nostri ricordi, e sulla nostra identità di partenza, l'identità ereditata, che però se vogliamo emanciparci e fare un percorso nostro all'identità ereditata, aggiungiamo le nostre scelte, il nostro percorso che sarà personale, si spera non conformista, attenzione quindi, e quindi che cosa rimane? Qual è una buona ragione per seguire il campionato italiano di calcio? Ma davvero? Non è credibile, non è credibile in realtà il mondo del calcio diciamo maschile, perché è qui ovviamente i soldi sono lì, tutte queste indagini di corruzione legate alla FIFA non sono le prime, non è credibile, tra l'altro non è sportivo, perché comunque con sempre le stesse squadre, non c'è equità fra le varie fra le varie rappresentati, le varie squadre, le varie società, ecco. Per quale motivo? È una cosa che faccio fatica a capire, considerando anche che in Italia abbiamo il problema delle tifoserie violente, abbiamo il problema, sono già state fatte delle indagini, dei rapporti fra le tifoserie più estreme e la criminalità organizzata, il rapporto del ricatto su base violenta della criminalità organizzata attraverso le tifoserie, verso le società, cioè tutti i motivi per disinteressarsi completamente a quel campionato che uscirà da una situazione come questa, che è un campionato che per una persona che a un certo punto inizia ad elaborare bene anche ciò che è ereditato da un punto di vista affettivo, è un campionato che oscilla veramente tra il frega cazzi e il cazzo mene. Invece guardate, guardate, ma lo vedete, lo sappiamo tutti, guardate quanta passione, poi c'è il discorso del vincere per interposta persona, vedi omonimo mio video precedente, per cui i mondiali del 2006 ragazzi non li abbiamo vinti noi, li abbiamo vinti quella squadra lì e si tende ovviamente a a sentire, a dire ho vinto oppure ho perso e più spesso si perde, soffrendo come dei cani, ma per cosa? Rischiando di trascurare se stessi, rischiando di deviare fin troppo le proprie energie su imprese e che sono imprese altrui. Sono molto, dicevo, parto da questa notizia di Platini, ma sono, la popolarità del calcio italiano e poi ovviamente c'è il discorso, ma questo lo davamo talmente tanto per scontato, tra virgolette dell'oppio dei popoli, cioè è talmente un'arma di rincoglionimento di massa, dare alle persone questi gagliardetti, queste bandierine, cui giurare fedeltà e da inseguire per tutta la vita? Non lo so, fate Vobis. Non riesco a trovare, e poi ripeto, una partita di calcio può essere e come bella da vedere, ci mancherebbe altro, però vorrei avere delle premesse credibili, se no, che cosa sto guardando? Però finisce lì. Niente, fatemi sapere, non ho, si immagina, penso di aver bestemmiato in chiesa oggi, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.